In Italia avesse dei dubbi sul fatto che la piazza sia il luogo del PD questo weekend e la sua risposta da Palermo a Cesena a Forlì a Modena a Reggio e poi Bari a Napoli per chiudere a Firenze, a Roma, in tante città oggi noi stiamo dicendo una cosa molto semplice a tutti quelli che dicono che il PD sta chiuso nelle proprie sedi o sta chiuso nei palazzi del potere noi diciamo che il PD sta a casa sua, in mezzo alla gente, a incontrare le persone, a confrontarsi con le persone e non ha paura della piazza perché la piazza è casa sua. Noi a differenza degli altri conosciamo i nomi ma ci piacciono i pronomi, qui c'è un noi, non c'è soltanto un io, c'è un noi e questo ci differenzia e io non vi chiedo di avere fiducia in me, vi chiedo di avere fiducia in noi, in quello che siamo, in quello che rappresentiamo anche con le nostre differenze.